buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale oggi parlerò dell'audio mp3 no dolori mai più dolori mestruali mai più dolori mestruali sono delle un audio mp3 molto potente che proviene direttamente de los angeles bever ilso per l'ottanta per cento per il 20 per cento è stato migliorato dal dottore claudio saracino dal sottoscritto e che guiderà il tuo subcosciente la tua mente profonda il tuo pilota automatico ad eliminare i dolori mestruali che ti assillano da un sacco di anni non devi credere devi soltanto fare e dire basta le ho provate tutte non ci sono riuscita non ho risolto niente di niente di niente anche con i guru bla bla per cui tu puoi scaricarti questa audio mp3 dcs dal titolo mai più dolori mestruali direttamente e comodamente da casa tua in qualsiasi parte del mondo in completo anonimato privacy chi più ne ha più ne metta lo scarichi lo carichi sul tuo computer sul tuo cellulare su una su un lettore mp3 premi play segui le istruzioni alla prova di un pigro alla prova di un idiota la prova di un nonno facilissime istruzioni facilissime i tuoi dolori come per magia come per miracolo come per incanto la magia il miracolo della tua mente spariranno facilmente trattasi di parole naturali create però ad arte ad hoc che guideranno la tua mente profonda il tuo subcosciente ad eliminare questo incubo questo mostro dalla tua vita che non ti fa vivere ok che non ti fa vivere io ho conosciuto tantissime donne che prima di approcciarsi al metodo dcs di ipnosi dcs vera e professionale non riuscivano per tre quattro giorni al mese a vivere quindi rovinando i propri rapporti con il proprio partner con i propri familiari figli colleghi sul lavoro vita genitori eccetera c'è quindi puoi eliminare questo problema oggi ora all'istante immediatamente facendo azione ok per cui ti invito e tu a te soltanto la scelta o restare come sei oppure cambiare pagina voltare pagina ripeto l'ipnosi dcs vera e professionale riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale e dalla chiesa con papa pionono nel 1847 poi documentarti però ti invito a scaricare quest'audio e ad eliminare date anche dalla dalla tua cara che magari non vuole il tuo aiuto perché il metodo dicesse funziona anche con chi non vuole ok e finalmente trovare la gioia il sorriso l'armonia in famiglia con se stessi e con chi ruota attorno a te visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti al canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs il dottor claudio saracino e facendo condividi con amiche amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sui miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs il dottor claudio saracino ripeto approfondisci il discorso e fai azione ed elimina questo dolore ciao